L'ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì si sta attrezzando in campo chirurgico e non solo con le ultime tecnologie disponibili sul mercato. Così è anche per il reparto di oculistica coordinato dal dottor Giacomo Costa. Da poco è arrivato il laser giallo ma ci sono anche tante novità. Le novità nel mio campo oggi sono fondamentalmente due. Una è la terapia con il laser giallo per le patologie della retina medica e a breve, si parla di qualche settimana, avremo anche l'avvio della chirurgia con cristallini torici, multifocali, multifocali torici per la correzione di difetti refrattivi post intervento di cataratta. Per quanto riguarda la chirurgia, il nostro ospedale è uno degli ospedali all'avanguardia? Sicuramente siamo dotati delle migliori tecnologie presenti sul mercato e lo mettiamo a disposizione e a servizio di tutta quanta la nostra popolazione. Per quanto riguarda invece la Romagna, quali sono le patologie più comuni? Le patologie più comuni abbiamo glaucoma, cataratta, degenerazione maculare legata all'età. Come si fa per evitare oppure ritardare queste patologie? Prevenzione, uno stile di vita adeguato rispetto di norme e comportamenti, oggi più che mai. Prevenzione, uno stile di vita adeguato rispetto di norme e comportamenti, oggi più che mai. Prevenzione, uno stile di vita adeguato rispetto di norme e comportamenti, oggi più che mai.